Eccoci qua ragazzi, allora la Roma vince, vince 2-1, vittoria importantissima perché direi che la Roma a questo punto a meno di clamorosi capitomboli dovrebbe essere qualificata Roma che in trasferta è sempre abituata a prenderle perché anche l'anno scorso comunque pur arrivando in semifinale le ha sempre prese in trasferta Oggi era la partita più difficile, a parte quelle con Real del suo girone era la partita più difficile assolutamente Sono campi sempre difficili, quelli lì a Mosca e voglio fare un paragone come la Stana, la Stana squadra kazaka che è scarsissima però in trasferta, freddo, stadio caldo Poi danno il 100% questi giocatori nei loro stadi e mi ricordo che batte l'Atletico Madrid e la Stana mi pare o pareggio E c'è il capo a Mosca che infatti ha battuto anche il Real, il Real che è in crisi, lasciamo stare quello però è sempre il Real Roma che secondo me ha affrontato la partita con maturità, è sempre stato in mano alla Roma pur non giocando benissimo I due gol sono nati da due errori abbastanza clamorosi della difesa e del portiere del CSK a Mosca Perché il primo, un'uscita in ritardo e il difensore, cioè nel senso Manolà stacca più alto, ci sta Il difensore non riesce a contrastarlo però il portiere è uscito malissimo, è già un gol regalato Il secondo è un tiro sbagliato che va poi a Pellegrini, che segna che comunque Pellegrini diciamo che è partito male Poi dal derby in poi purtroppo sta comunque trovando spazio Ma mi ha colpito della Roma che non avevo ancora visto giocare una partita intera Kluivert, Kluivert ha giocato benissimo, è giovanissimo, adesso non mi ricordo l'età, mi pare sia del 99 98-99, anzi andiamo a vedere se me lo dicono di che anno è 99, 99 è il più piccolo di me, è nato a maggio, sono nato a gennaio E veramente bravo, era un folletto, veloce, tecnico, ha procurato l'espulsione di Magnus Un Magnus che mi pare sia proprio ex Cesena, ex Spezia, giusto? Mi pare sia lui, via se non è un omonimo, che giocò nel Cesena difensore Quindi, ragazzi, capite bene che era il Cesena scappamosco perché come ho detto Il partito ostico è tutto, ma è una squadra scarsa, tecnicamente è scarsissima Se ci gioca Magnus, che non riusciva neanche a giocare in Serie A, figuriamoci, ok? E poi comunque qualcosa ha creato, sta crescendo Olsen Olsen è anche un portiere che a me non piace perché tecnicamente non è un portiere forte Però sta crescendo e, punto, Di Francesco gli ha dato fiducia E piano 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 è un po' di partite che Errore non ne sta più facendo E mi dà anche più sicurezza Ecco, io le prime partite che ho viste dalla Roma quest'anno Appena la palla ha anche solo un retro passaggio a Olsen Mi venivano veramente ai tifosi romanisti, gli sarà venuto un attacco cardiaco E invece no, adesso mi dà sicurezza Mi sembra che ha acquistato fiducia in se stesso e questo nel calcio è importantissimo Comunque, ripeto, adesso il Real stasera è con Vittoria Pilzen Penso vada a vincere Comunque la Roma dovrà ancora andare appunto in Repubblica Ceca E poi, adesso dovrà, mi pare, c'è Roma-Real Madrid E poi andrà col Vittoria Pilzen Quindi diciamo che potrebbe anche giocarsi il primo posto alla Roma Non lo so, non lo so Comunque la Roma, vedi, a livello europeo secondo me sta crescendo Dall'anno scorso ha preso più fiducia in se stessa Queste partite la Roma due anni fa l'avrebbe perse Parliamoci chiaro, la Roma l'avrebbe perse E col CSK Mosca mi ricordo che ha perse 2-1, mi pare Proprio la Roma E niente ragazzi Direi che ho detto tutto Seguitemi su Instagram E devo salutare Thomas, un piccolo laziale che mi segue da Genova Mi ha scritto suo papà su Instagram poco fa Quindi saluto Thomas e anche appunto il papà che mi ha scritto Mi fa piacere Signori, ciao ragazzi Bella A domani con Lazio Marsiglia